Scendono con due giorni di ritardo in Abruzzo i sindacati per la manifestazione nazionale per il rilancio del settore edile. È stato denominato l'edilizia muore, sindacati in lotta per il futuro. Si presentano sotto al palazzo della regione di Pescara, in Piazza Unione, e chiedono un incontro con il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, e l'assessore regionale ai lavori pubblici di Matteo. Per presentare quella che è la piattaforma che noi abbiamo inviato loro, dove indichiamo azioni e proposte di programmazione da parte della regione, che fra l'altro erano già state presentate alla vecchia amministrazione regionale, sulle quali fino ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. È il settore dell'edilizia quello che ha sempre fatto ripartire l'economia in Italia. E oggi il presidente abruzzese D'Alfonso incontra i sindacati per una piattaforma che tuteli la ripresa dell'edilizia fatta di certezze, scadenze, ritmi incalzanti e risultati. Noi dobbiamo snellire le procedure, le norme, fare in modo che dalla risorsa finanziaria al cantiere che sporca di cemento le tute degli operai non passi più di 20 mesi. Questa è la sfida della quale noi siamo pienamente consapevoli, aggiungo anche, siamo capaci di fare gol su questo fronte. Abbiamo detto agli operai e ai sindacati che sono qui, noi nell'arco del mese di marzo-aprile siamo nella condizione di appaltare in Abruzzo aggiuntivamente 6-700 milioni di euro. Dal canto loro i sindacalisti presentano punto per punto tutte le tutele necessarie e indispensabili per potersi muovere, per creare occupazione. Un'occupazione che si trova lì, ad un passo da loro. Esistono opere cantierabili che attendono solo l'inizio lavori e ora sono state messe sul tavolo. Il primo tavolo, quello della programmazione, si realizzerà già lunedì 15 dicembre. Quindi noi ci aspettiamo molto dal fondo valle della Val di Sangro, 120 milioni di euro, 200 milioni sull'edilizia sanitaria, altre che tanti ce ne sono sulle reti di telecomunicazioni. Insomma, ce n'è veramente tanto, però noi abbiamo bisogno che le carte si trasformino in cantieri.